Ecco le vigne. Producono il loro vino da secoli. Abbiamo fatto bene a vestirci eleganti. Già, ho fatto bene a non portare un vinello. Ma è incredibile. Frederic Bouvier Sauvage, è un piacere. Nicola e Gerard si complimentavano per la tenuta. Ah, sì. È una delle proprietà più belle dell'Aquitania. Posso mostrarvi? Adoro il biliardo. Io gioco all'americana. Sì, come in tutti i bar con sala corse. Tesoro, non sai che ti sei perso? Cosa? Un giardino d'inverno magnifico con degli aranci e delle orchidee rare. Anche noi abbiamo un giardino d'inverno a casa. Lo chiamiamo Veranda. Abbiamo organizzato questo incontro anche per dirvi che François mi ha fatto la proposta e io ho detto di sì. Ci sposiamo. All'unione? Delle nostre famiglie, sì. Abbiamo un regalino per voi. Il laboratorio dove lavoro si ha offerto un testo del DNA. Il nostro testo è sulle pareti di questo castello. Siamo francesi dai tempi di Luigi VI il Grosso. Tesoro, per me è come tuo padre. Le mie origini le conosciamo benissimo. Io sono per metà francese e per metà italiana. È tutto. Io sono francese al cento per cento. Non ho nulla da nascondere. I risultati sono qui. Oh, no. Merda.